Ciao, sono Luca Manelli e in questo breve video voglio farti vedere che cosa succede quando apri un file dvg. Per aprire un file dvg, una volta che hai aperto Archicad, dal menu archivio alla voce apri, vai a selezionare apri. Ho la possibilità quando seleziono il disegno dvg di andare a selezionare un traduttore, nel mio caso ora utilizzo per un'importazione editabile e vado ad aprire il dvg. Come puoi vedere Archicad aveva aperto un file, me l'ho chiuso e mi sta aprendo il dvg, per cui va a effettuare una vera e propria apertura del file dvg. Arrivo a questa schermata dove mi chiede l'apertura parziale del file dvg, dove ho la possibilità di andare a attivare o meno i lucidi da importare. Io ora li vado a importare tutti, confermo. Quando arriva questa schermata mi sta chiedendo se voglio cambiare il colore di sfondo, nel mio caso non lo vado a cambiare. Clicco non cambio, attenzione che se vai a cliccare su cambia avrai il colore di sfondo nero con il disegno così come lo avevi all'interno di AutoCAD. Io ora non cambio e ho aperto il dvg. Con l'apertura del dvg che cosa succede? Beh, sono andato a perdere alcune delle impostazioni di Archicad. Infatti se ad esempio vado ad aprire le impostazioni dei lucidi, puoi vedere che non ho più il mio elenco lucidi e non ho neanche le mie combinazioni. Ho l'elenco dei lucidi del disegno dvg. Se vado ad aprire il set di penne del file, puoi vedere che mantengo il set di penne che avevo in precedenza, ma viene aggiunto il set di penne colori AutoCAD. Se vado ad esempio ad aprire l'elenco dei retini all'interno del file non ho più retini, se non quelli eventualmente che sono stati importati dal file dvg e alcuni retini di base di Archicad. Allora, come faccio ora a poter lavorare magari su questo file con le impostazioni a cui sono abituato? Beh, la prima cosa da fare sarebbe quella di non aprire il file dvg, però visto che l'abbiamo aperto, un'operazione da fare ora è quella di andare a selezionare il disegno e dal menu edita andarlo a copiare. Una volta che abbiamo in memoria il disegno, dal menu archivio andremo a creare un nuovo file, andrò a utilizzare un modello, questo mi permetterà di selezionare o il template di base di Archicad oppure un template personale. Nel mio caso io sto andando ad utilizzare il mio template. Vado a cliccare su nuovo, non salvo l'apertura, o almeno il file con cui ho aperto il dvg, tanto in memoria gli elementi del disegno li ho sempre. Ho aperto ora il mio file con l'impostazione del mio template. Non fare l'errore di andare a incollare all'interno dei piani, vai sempre a gestire i dvg all'interno dei fogli di lavoro. Per cui vado a creare un nuovo foglio di lavoro indipendente facendo un clic con il tasto destro sulla cartella fogli di lavoro. Vado a nominare il foglio di lavoro, nel mio caso vado a inserire il nome dvg piano terra, visto che il disegno che sto andando a importare è un dvg del piano terra. Creo e ora posso andare a incollare il dvg. Archicad mi chiede dove lo voglio incollare. Io mantengo le impostazioni che ho attivo e vado a incollare il dvg. Che cosa è successo? È successo che noi abbiamo incollato il dvg. Archicad logicamente si è impostato sulla base delle penne che ho all'interno del mio template. Ma a me quello che mi interessa fare magari non è quello di andare a lavorare su questo disegno, è quello di andare a lavorare direttamente all'interno del mio ambiente tridimensionale. Per cui se devo andare ad esempio a ricalcare il disegno e trasformarlo in un disegno Archicad, l'operazione da fare è quella di andare a richiamare il sottolucido riferimento, andare ad attivarlo e andare a selezionare il foglio di lavoro che ho creato con il disegno all'interno. Attenzione lui non mi sta facendo vedere niente perché all'interno dell'elenco lucidi tutti i lucidi al di sotto del lucido che inizia con il numero 9 sono tutti quelli del dvg. In questo caso io ho aperto il file con il mio template. Ora sono andato a selezionarli tutti, li vado ad attivare e confermo con ok. Puoi vedere che abbiamo definito la proiezione del file dvg. Ora avrò la possibilità, come magari sai già benissimo fare, di andare a rilucidare il disegno in maniera tale da farlo diventare un progetto BIM di Archicad.